Seriamente signor chip ma oddio ma che è sta cosa aspetta No comunque ragazzi dateci un consiglio per le pareti che siano intonate con il pavimento Anche quelli che guardano il video tramite Ma perché qui non c'è la cosa Ma mi baggo Ma scusa mi vale Eh stavo completando Stavo completando di fare Arriva fino qua non andare oltre perché se vai oltre poi le persone muoiono Eh stone slab no ragazzi le pareti di stone slab mi fanno schifo Allora Ma oltre no vero Cioè io mi fermo qua guarda No infatti no ti devi fermare da 3 lo devi fare Prima forse E a 2 No aspetta fallo speculare qua Fallo speculare cioè tipo caccapupu fallo Allora qua è 3 no? 1 2 e qua è 2 E fallo là pure 3 allora No aspetta Sì è 3 è 3 è 3 Scusa fino a 3 è secondare Allora assistenza antilag Aiuto io laggo troppo salvatemi Eh Peppo se fai il bravo Se no ti porto altri regali Le pareti di mattoni fatti di argilla Sì vabbè Stone brick qualcosa di prendibile ragazzi Allora sicuramente non penso che mi ti caccio sia rabbi O sia rabbi No 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 basta Basta griffare Allora ragazzi comunque per tutti quelli che tipo Pensano che tipo voi griffate Fate schifo Abbandonate il server Ragazzi non era una griffata In quel caso nel video Era fatta a moditale Ma siccome era nell'acqua E la volevo fare più bella Perché com'era faceva schifo al cazzo L'ho levata però Poi io vorrei che qualcuno mi spiegasse Qualcuno che Vorrei capire se c'è qualcuno che Può entrare in quella testa del cazzo Cioè in quella bella testa che c'hai E farmi capire perché vuoi fare la casa nell'acqua E' quello che voglio capire Perché è figa la casa nell'acqua Smettila Che tu hai brutti gusti Va bene ok Che poi la casa nell'acqua è figa Metti caso ti vuoi lavare Guarda Vai a lavarti Vai a lavarti Vai a lavarti Vai a lavarti Visto Visto Ecco ti stai lavando Stai vedendo Già sei pulita Ma non è più pratico fare una bella doccia Senza questa melva di foglie qua Guarda che c'è Guarda 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 La sozzima La sozzima Guarda La sozzima Guarda Sei tu che la stai facendo Sei sozzo Cioè tu la fai e io la raccolgo Sozzo Ok Copri di capezza Oh guarda la chat Guarda la chat Leggi la chat È fichissima nell'acqua Ok Cioè loro sì Che hanno dei bei gusti No comunque vale Appena vedrai la casa finita Vedrai che Seriamente Cioè io vorrei fare pure qualcosa Però non so che Teoricamente dovevi finire Questo pavimento Ma a quanto vedo Vabbè Tu mi hai detto dai Fermati Fermati Non andavo Se no cacca papule Il pavimento Lo dovevi finire Ok Ah ok T'ho detto fai quello speculare All'altro E poi ho chiesto alla chat Le pareti Che pareti Mi consigliavano Ok fai quella bianca Che non c'ho voglia Ok Ok grazie Allora Che è sta convidenza Ma io non lo so Ti conosci Allora sì sì Soltanto per arrufionarti E farti lavorare Allora Ecco perché tutti i peddono Peni ovunque Cioè ogni volta Che costruisci una casa Pepo È un pen No non è un pen Dov'è Eh no se vedi Tipo la forma È un pen di due centimetri Va bene ok Eh C'è due centimetri Vale smettila Vale vale smettila Se non se ne è raccorto nessuno Cioè tu puoi accorgere Tutto e tutto Allora Eh No adesso dobbiamo fare Un altro reclamo Ma smettiti Smettiti Mamma mia Guarda No seriamente No vale vale Sei una brutta persona Basta Comunque ragazzi Sì seriamente Se avete Se nelle dimensioni peccate Chiamate l'1-1-2 Dite Io ho bisogno di aiuto Eh Perché c'è Ah che è terra Allora Eh One moment One moment One moment Piazziamo qua Perfetto Piazziamo qua Allora Eh le pareti Mi servono le pareti Senza le pareti Non so dove andare Allora Allora innanzitutto L'architetto scappa con i soldi Vabbè L'architetto qua Da quanto ho capito Non c'ha voglia di lavorare C'è proprio Detto in italiano Italiano è nato Allora facciamo Mi sento allaggato Proviamo così Eh facciamo Legno scuro qua Legno scuro qua Aspetta Senti qua Fanculo Io faccio così E vediamo cosa viene fuori Allora Legno scuro qua Sai che cosa mi sta cominciando a piacere Così Eh lo so che ti sta cominciando a piacere Io te l'ho detto Eh legno scuro è bello Ma lo so che legno scuro è bello Piace a me Allora Aspetta sta qua La leviamo pure da qua No 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 Mi serve la legna scura Allora Eh Mi è caduto il legno Ok no seriamente ragazzi Ok so come fare casa Allora vale Ok perfetto Aspetta Qua è di 4 1 2 3 4 No seriamente vale Secondo te chi è che ha ragione Ok Secondo te chi è che ha ragione Tu non sai costruire Cioè seriamente vale Attenta alla grado Cioè se si suggerisce la cosa E sfuga tutto qua Cosa che No 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 Non fare fare Ok Allora Eh Perfetto Perfetto Ok Allora E noi teoricamente abbiamo questa cosa qua Ok Allora Io qua volevo fare una specie di Perché facciamo un balconcino sul mare qui fuori Beh infatti qui ci sarà una specie di vetrata tutta figherrima Che le persone Vado a raccogliere la sabbia allora Eh sì Vado a raccogliere la sabbia Che io nel mentre faccio il contorno della casa Allora Sì vabbè ci consigliano Fate le pareti in cubi di diamante Certo eh capito Dovete sapere che io mi chiamo Eh io l'ho chiesto a Babbo Natale Diamanti Io non me li ho portati Vedete dove è con lui No veramente Perfetto Andate a fare ricorso a Babbo Natale Ah Pottissima Io lo so Babbo Natale sei egoista Babbo Natale sei cambiato Diglielo No seriamente Babbo Natale sei cambiato Cioè prima regalavi diamanti così a random Però Ora 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 non li regali più No prima oggi mi regali per piacere Adesso lo fa felice Allora Ma se io adesso Facessi tipo Tanan tan 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 Poi Io qua voglio fare tipo una specie di Di Barbabietola Oddio guardate che figo ragazzi Cioè guardate che figo Che è che vi costruisce una casa così bella eh Ok Luke Però Va bene Oddio No seriamente Luke costruisce case fighissime Ma come merda fa se lo so solo lui Cioè seriamente Luke Mamma mia Cioè costruisce il mondo Ok basta Eh quindi Ma perché c'è un cane che mi ringhia Dov'è il cane Dov'è il cane Perché ha capito Tra i due Chi è la persona più fastidiosa Allora Mettiamo tutte queste cose qua Perché mi dà fastidio Sapere che c'è Dell'acqua Allora Non lo so dove è il cane Vale ti ricordo Che devi cercare Della sabbia Ok Eh ma sto deturpando una sabbia Qui non va bene raccoglierla Vado più in centro Ok Come va più in centro Smettete di andare più in centro Guardate Vale che va in centro Cioè Seriamente Cioè lei Guardate Seriamente lei va in centro Senti allora Quella è una spiaggetta del cazzo Ragazzi Emma Emma no Emma mi ha regalato È arrivato Papo Natale Sì è arrivato Papo Natale E mi ha regalato Il diamante È uno stack È uno stack Sì mamma mia Dieci diamanti Dunque ringraziamo Emma Power A me è arrivato un altro Papo Natale Che mi ha portato proprio il Mamma mia Non lo so Che ti ha portato Però sì Papo Natale Sono ubiqui Eh lo so Lo so Dovete rapporti testori Andate da Pepo Ma no Che è sta Ma andate via Allora Invece io ho una mezza idea Di fare Una cosa del genere Allora Se io tipo faccio Una cosa così No Allora Io vedo che frizza Il mio live Sbaglio Eh ragazzi Ragazzi I live stanno frizzando Nel senso Vedete le bollicine Fa mega frizz proprio Allora Pepo Che telefono hai? Uno che squilla Mmm Eh Romper live Ok Ok Vale No c'è stato tipo Un lag Tipo generale No merdo Sto sbagliando A piazzare la legna Eh lo so Sto frizzando Io L'FTP Quello Quello di Vale Sì No Vale Eh lo so Ragazzi L'FTP È una rogna Perché Non ce la fa Non ce la fa Ma come non ce la fa E prova ad abbassare Il bitrate Dovrei Deviare il live Oddio Un casino Un casino Perché c'è adesso La crafting Table grigia Perché spuntano Le crafting table Così a random Tipo Ok Sto riavviando il live Ok Vale In frattempo che Vale Riavvia il live Eh Questi live andranno su youtube Yes Ma il tuo forse Il mio non so se ci arriva No il tuo Ma fregatene fregatene Lo carichi Lo guardiamo poi Insieme La ghost Lo caricherà la ghost Esattamente Oh madafuck Oh madafuck Allora Però a me serve la legna Eccola qui La legna Ok Allora Voglio fare una cosa figa Riuscirà il nostro Peppo a fare una cosa figa Lo scopriremo Eh Il gioco è ufficialmente crashato Credo Come sei crashata? Eh sì Guarda guarda Cioè guarda guarda Cioè non si può neanche crash Cioè ora seriamente Cioè io posso giocare così eh Cioè posso giocare così no davvero Cioè io pretendo Io pretendo Adesso mi devi creare il numero Per quelli che crashano No seriamente Io pretendo un servizio di supporto Cioè ovvero che tu chiami Scusi sto laggando E quelli ti risolvono Lo sto crashando Esatto Cioè seriamente eh Comunque voglio fare le scale di 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 Oddio mille mila messaggi su test Io odio Ok Ok Dove le trovo le birce? Eh Uno mi ha scritto Vale vai questo live Cuoricino Vale prima crashami per passione E certo vale prima crashami per passione Per passione Ma lo fai solo per i sogni È vero È vero Ogni volta che crash Mamma mia Mamma mia Ogni crash ragazzi Voi non lo sapete Ma tipo entrano 70.000 euro a crash Eh Seriamente ragazzi Non è uno scherzo Infatti ogni crash Aspetta io mi mangio tipo le cotulette qua Che voglio le cotulette Allora Che cosa può Queste qua si possono unire Tipo mi dicono dalla regia Eh Ok ragazzi Andiamo a cercare le birce Le birce Sì le birce Proprio le donne Dei facili costumi Allora Cotto di merda Perché le chiami così? Così le chiamano i vecchi Le birce si chiamano Dove si chiamano? Oddio perché hai fatto Un giorno in perno Perché figo Ok perfetto Oddio quanti alberi blu Alberi blu everywhere Ci sono alberi blu everywhere Allora Allora ragazzi Gotto di merda Vieni qua Che fa? Fugi? Fugi? Io ti ammazzo Gatto di merda Che pena Non droppano manco uno Quanti messaggi Ragazzi Non scrivete un messaggio Sennò comincio a levarmi i messaggi No guarda qua C'è Miticaccio Che sta indicando il cielo Non so il motivo Ma c'è un Miticaccio Che indica il cielo Ha visto il buon Natale Ha visto Allora Ragazzi mi servono le birce Cioè mi servono assolutamente le birce Almeno mi servono le birce Che so ste birce? Le birce No che birce 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 Allora Andiamo alla ricerca di alberi bianchi Alberi Ok mi sono rotto una costola Ok perfetto Qui c'è legna stura No non riesco a riaviare l'FP Ma una domanda Ma ci sta la 3 tap qua Quello che rompe un albero e cade tutto Ok no Non credo Cazzo Speravo ci fosse Ok perfetto Mi sa che Ok Ok perfetto Sta laggando? Non capisco Ok c'è Mi sa che c'è Ok mi sa che hai ragione C'è il server che tipo lagga Non capisco il motivo Eh si Oddio Per rompere un albero Ci metto 67.000 minuti Mi dicono dalla regina Io non riuscivo anche a rompere le foglie Le foglie sulle foglie no Ok c'è Mi è caduta una mucca dal cielo Che cazzo Le mucche non cadono dal cielo eh Ecco Yeah Mi è caduta una mucca dal cielo Che Mi è caduta una mucca dal cielo Veramente Ti giuro Stavo rompendo un albero Rompo l'albero Cade la mucca Ti giuro C'è C'è Almeno mettessere i cartelli Tipo Attenzione Qui piovono mucche Mucca volante C'è Magari Ricordavo che c'erano i maiali Che volavano Non pure le mucche Oddio c'è un alveare Sì però non ho qui O c'è una pecore Le pecore non le voglio Voglio gli alveri bianchi Ma io ci ho messo Ok lo spuntale a casa Lo spuntale Ok sto avviando lo streaming Vai 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 Avvia lo streaming Avvia lo streaming Vai Non so se funziona Mi dici se funziona Ragazzi Come è cresciato Ok chip Facci sapere se il live di Vale è live Sì sì È live Lo dico io Come sì sì Lo dico io Il vale di live è live C'è il vale di live Il live di Vale Non ce la fa Non ce la fa stream Come non ce la fa stream Stavi streamando fino a due minuti fa Non ce la fa il pc Poveraccio lui Con questo ftp qua Adesso in live credo Ok perfetto Allora io continuo qui a rompere Quei alberelli Perché mi servono Ok è in live Oh non stiamo collegando più Ok perfetto Ottimo 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 Allora a me servono le birce Cerchiamo le birce Ah beh non ti preoccupare Dagli il tempo al server Di rassettarsi Oddio Allora Nel frattempo Eh sì vabbè È normale come cosa Vabbè tu vai live Tu vai live Poi tipo fai i tagli fighi Tipo Vediamo dove è arrivata Eh A me servono le birce Dove sono le birce Che sono queste birce Oh li ho trovati Ok ok Perfetto Trovati Perfetto Oddio Finalmente Cioè Ok Allora raccogliamo pure I cosi per piantarli Che mi serve la legna chiara Per fare le cose fighierrime Tipo Che le persone che devono guardare Devono dire Oh my god Il legno bianco È veramente It's over 9000 Oh voglio un melone Dammi il melone Perché vuoi il melone Che vuoi fare col melone No lagga troppo Cosa lagga troppo Guarda Ma troppo neanche il melone Eh vale Questo capita pure a me Questo qua Devi dare il tempo al server Che è un pochettino Tipo sovraccarico Di 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 Non so che cosa Seriamente Ma non si potrebbero chiudere Tutti i portali Che tipo tenete aperti Chip Non è quelli Che fanno laggare E che cosa fanno No Non droppano No Non so io Eh lo so È il server Lo so che è il server Che ci posso fare Se è il server lagga Dovremmo fare un riavvio Oddio Non fare un riavvio Perché no Non lo fare Ora perché non c'ho voglia Ogni tempo dovrebbero farlo Eh vabbè Oramai Per ora ci accontentiamo Così con lagga Insultiamo tutti quanti Allora Guarda Che raccoglie le birch Quante birch Cioè guarda Guarda Non riesco neanche a entrare Nella crafting C'è assurdo Eh Devi insultare Chip Quando è così E vedi che parte Perché è occupato No non hai fatto nulla Così perché tu insulti Chip La crafting si spaventa E dice No non devo insultare Chip Poi insulto Solo quando c'ho voglia Se tipo Chip Allora insulta la crafting table Fai crafting table Di merda E a Chip invece Gli dà un bacetto Perché così funziona Guarda Io sto insultando l'albero E si fa droppare Visto Il burro di morto Visto Ho insultato l'albero Si è spaventato E sta sparendo Regà Non mi scrivete Prego Su TS Scusa Ma perché non te lo muti Perché non te lo muti Eh io lo metto io Adesso Cioè seriamente Tutti state Con tutti i suoni messi Ma come fate Io ho tutto mutato Io ho tutto mutato In modo tale Che se mi scrivono Bello Cioè a meno che Non sto nel desktop E non mi arriva Ecco Altri messaggi Vale 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 Ti insegno una cosa Prova a mettere la cosa Che non ti parla Il TS Villaggio Villaggio Sai che funziona vale Oddio ma che è sta cosa Mi serve la palla di ferro Non lo so No l'ho posata Ma no porca di quella Gravel Che non ho la paletta qui Per porca di quella Patonza lavorativa Che canta la canzone Eh no Per troppo asci metteranno Per troppo un qualcosa Ah ma io Ah io sono fuori al buio Mi dicono Senti Posso innalzare un po' la casa Eh no Non l'alzare Lascia la bassa Mi servono le birce Per il momento Perciò vieni a fare birce Ma che so Gli alberi bianchi Gli alberi zebrati Come li chiami tu Vale Ma forse ce li abbiamo un po' qua No 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 Non ce li abbiamo Perché gli alberi zebrati Stanno soltanto Nelle foreste zebrate Di Allora Per aprire una cazzo di casa Per aprire una Ah vale Dici dei fanti Eh vale Me li ha regalati Me li ha regalati Emma Power Perciò sono miei Basta C'è sito Per pe Comunque Non li usare Che poi li useremo Per craftare Qualcosa Di fico Sei sicuro che sono tuoi Vale vale Lasciali nella cesta vale Certo certo Ma sono nella cesta Sì ok Sono appena speriti i diamanti Che brutta persona Che sei Vale Tu che rubi i diamanti Eh lo che si è Papà Natale Eh sì ma non è che puoi Oh carbone Aspetta che raccolgo il carbone Che in effetti siamo senza E il carbone come prima risorsa È abbastanza fondamentale No è laga laga Non si fa fa niente laga Ok perfetto C'era del carbone qua Mi sembra di aver visto Oh gg per pepo Che trova il carbone Sì laga vale Ma non è possibile Ma a me non sta laggando C'è io rompo le cose E lei troppo tranquillamente Aspetta vale Che ti vedo il ping Quanto c'hai? Eh vabbè Io ho troppato qua Perché sta streamando Eh 150 Vabbè è normale Sta streamando C'è in live Ti ricordo Io quando sono in live Ti va arrivare a 180 200 di ping Guardate Facciamo la filastroque No guarda La filastroque No era come era La musica Oh chip chip Dimmi di mangiare La scala musicale La scala musicale Secondo me starà facendo Qualcosa di stupidissimo Che non è per niente Utile ai fini di gioco Cos'è? Ok tranquilli ragazzi Sono lontano 500 metri Ma mi salverò Questa volta Arriverò a casa Mi salverò In modo Caccapupu Che non fa Tocco? Non lo so Ok mi sono rotto Una gamba GG per pepo Che si rompe le gambe In modo davvero Simpatico e carino Oh ho trovato del ferro Ok bevilo Oddio ma che cosa è sabbia È sabbia sta cosa? Oh è sabbia Ma io non ho la pala Vabbè Mi crafto una crafting table Che non ho Vabbè a fanculo Me la crafto così Ma si Ma si Ho pure un pezzo di ferro Avevo Si Che culo Allora Facciamo Così Perfetto Ok Piazziamo la crafting Cosa posso buttare i diamanti? Allora Vale Ma tu che cosa devi fare? E tu della sabbia? Eh No Ecco Non l'hai fatta più Non serve Perché Arriva dopo a Buon Natale Mi ha portato Il vetro Ok perfetto Allora io realmente Raccolgo la sabbia Perché se aspettiamo a te Poi tu Come sempre Casi le canzoni Guarda 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 i poteri magici Della luce Guarda I poteri magici Della luce Perfetto Salomon Fatevi Teleport Che cosa hai in testa? Dammelo Subito Dammi Qualunque cosa Tu hai in testa No Non funziona il teleport Tu? Eh no Vale Non funziona il teleport Tu tu Oh Cazzo Ok vale No ma non si usa Finchia che lag Finchia che lag A me non sta laggando Io sto rompendo Sì Il freeze Pure a me Certe volte Il server Vabbè ma che freeze È normale Cioè ma A livello di lag Io non ho freeze Io ho lag Ma non capisco Perché cioè Io guarda Guarda Come sto rompendo Guarda il mio live Cioè guarda Come rompo la sabbia E come la droppa Guarda 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 Cioè guarda Guarda Cioè guarda Vedo ci può volare Proprio su youtube Ah ma mi dicono Che ho l'inventario pieno Mi dicono eh Aspetta Buttiamo sta merda È tipo inutile Sto portando il vetro eh Sto correndo Velocissimamente Che c'è qui Cioè guarda Io sto Vabbè non vado nelle case Mi hanno detto Nei commenti Che spiega Allora Dicono in chat Comunque mi sa che domani Pepo mette 400 giorni No Ti sei sbagliato Non l'ho neanche ancora giocato 400 giorni Sei l'ormun Tu che canti Le canzoni Di Conan Entra Non lo so Non chiedere Eh quindi Un inventario pieno Quindi Dicapilo donando Conan Chi è Conan Detective Conan Mamma mia Seriamente Vale ha avuto Un'infanzia triste No lo so Ho detto Chi è Conan Per Sailor Moon Eh Conan Conan e Sailor Moon Devi sapere Che hanno avuto Una relazione Non te l'hanno detto E da lì è nato Sailor Moon Ti giuro Io ho guardato Tutta la serie Di Sailor Moon E tutta la serie Di Conan Si sono conosciuti Ah sto morendo Oddio Oddio Ok sto morendo 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 No non è vero Non sto morendo più Non sto morendo più a posto Ok ho rotto la spada Mi dicono dalla regia Perfetto Ma non è un problema Perché Peppo ha il Cos'è sta luce Ok bene Penso che possa abbassare Non lo so Vale Forse è Gesù Che ti sta portando All'aldilà Chi c'è Mi schilla Chi c'è Streamlight Perfetto ragazzi Vale vede i cantanti Del 1900 Ma è bellissima Che cosa Vedere i cantanti Del 1900 No guarda Non so come si va Come si chiama No lo so Vale Nitor Vale perché stai vedendo Le cose che non dovresti vedere Vale Io sono la Towncraft No guarda 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 Vale Che guarda la Towncraft Mamma mia Guarda Cioè Guarda Vale Mamma mia Guarda Non guardate In questo momento Non guardate Vale Perché sta spoilerando Se siete nel video Di Vale Chiudete gli occhi In modo brutale Perché sta spoilerando Il mondo Anche se lei In primis Non sa neanche cosa sia Io domani Ce l'ho dimenticato Vabbè Se ti può consigli Neanche io lo so Allora Vabbè Dove è casa Però mi sembra Nella Pepo Craft Lo E vale Io mi sono messo il punto Nel Mettiti Mettitelo C'è un Creeper C'è un Creeper C'è un Creeper Mamma mia Pepo Parkurologo Mi dicono All'elementari Oddio Qui c'è uno slime Ma ce l'ho una spada No però Lascio Ma cazzo Meno io Lascio Oddio tre slime Cos'è importante Nella vita Aspetta No io li ammazzo I slime E le slime Possono tornare Sempre utili Mi dicono Ah si Ma non lo so Boh Non lo so Io spero di si Allora Buttiamo L'osso Che non mi serve L'osso Tanto l'osso Che serve L'osso Allora Oh il cuore C'è il cane invisibile In casa Non lo so Se c'è il cane invisibile Fammelo sapere Aspetta Ecco buttiamo i mirtilli Che la sacca di colorante Può sempre servire Ok Allora Qui ci sono altre Oddio c'è un altro slime Dammi le Ok non c'è Non me la date Allora qui c'è una miniera Che oddio Mi sono incastrato Ok perfetto Sono di uno libero Oddio come lag Per fortuna Mi avvisano Dalla chat Ah Ma che cazzo Vale Sono scoppiato Dove Ho fatto un boom Ma veramente Dove Aspetta Cerco di vedere Il replay sul video tuo No No non si può Dove Dove sei Che cazzo Ho fatto Giuro Ho fatto boom Ma dove Perché Non lo so Non chiedere Però ho fatto boom Hai perso tutto No Sono qua Vale Sono accanto a te No 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 Però ho fatto boom Mi ha levato vita Anzi aspetta Senti Vado a ricaricare l'armatura 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 Siamo 221 Oh my god Gente pazza Che guarda un po' Scusa No tranquilla Io li riparo E poi tu mi mani E mi levi di nuovo la carica No ma davvero È tranquilla Aspetta Ci metto pure i miei Vai ricaricali 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 Ok perfetto Io ho i peli in bocca Mamma mia ragazzi Guardate che bella casa C'è sinceramente C'è la casa più bella del server C'è Giggiate Tipo tutti forever Ah Ok certo Noi siamo arrivati al sesto episodio In live Per riuscire a fare una casa Quindi Quindi In compenso sono riuscito A fare tante di quelle birch Vabbè io Caricare Gli hai rotto un qualcosa Qualcuno Va bene Non c'era Eh sì Diciamo che a rompere il cazzo Sei abbastanza brava Eh ho toccato Smettila di toccare Mamma mia Non prendete sempre Allora Se io butto sta cosa No E craft Sembra una consiglia Solo Cosa No Modular Che cazzo è sta cosa Solid Doc Wood Bor Cioè Non bor Però Ok va bene Basta Eh Questa cosa Le buttiamo Poi questa qua La mettiamo qua Perfetto E mettiamo Facciamo tipo Tanan 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 Però la mette Sì tranquillo Ho scoperto un glitch Hai scoperto Lei scopre i glitch Che cosa sono i glitch Cioè Seriamente No 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 mi scella troppo Stai cosa Sì l'ho letto Schidino Basta non spammare Però per favore Scrivete una volta Raga una volta Una volta Allora Possiamo tutto Oddio ho passato troppo Tutto Va bene Possiamo queste cose Poi Questa qua Mi può servire Questa mi serve Questa mi serve Quindi questo Facciamo Boom Edgehot Boom Edgehot Allora Allora Ti può Guarda che ti ho portato Questo è quello che mi ha dato Poi una tanti Ok ma non mi serve Eh non dovevi fare Cosa che volevi fare Eh sì Devo fare Quello che devo fare Però aspetto un attimo Ho una fornace De cacchio Manco ce l'abbiamo Aspa Rilassati Sì mica sei frettolosa Manco il tempo Di fare la cacca sul video E già le vuole fare La fornace Con Con Le barbabietole Allora Che è il compressore? Aspetta Mi chiediamo sempre Le cose sbagliate Ok Il compressore Serve a comprimere Allora Boom Edgehot Boom Edgehot Allora Io stavo pensando Che pensi? Non mi chiedi? 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 No guarda guarda Scoprendo nuove cose Sconde il mondo con la sabbia Guarda Boom Edgehot Boom Edgehot Ah eh eh Ma io raga Io c'ho son Quanto sono Ma che vai Ma non dire Non dire bagianate Ti svegli tu domani alle 5 Ma va Tu non ti svegli alle 5 Non farei la finta Dormiente qui eh Allora Piazza Vabbè 5 non c'è più Ah c'è C'è ancora Oddio Tu Chi è che stai svegli alle 5? Dì Lì Tu C'è ancora Dì Dì No